Tra meno di 24 ore si conoscerà il progetto vincitore del bando del Ministero della Cultura per individuare la capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2026. Tra i cinque comuni finalisti, a sperare insieme a Carrara, Gibellina, Gallarate e Todi, c'è anche Pescara, che la scorsa settimana in audizione a Roma ha presentato il progetto Pescara Città Contemporanea, una porta aperta ai sogni. Alla vigilia del verdetto ministeriale parla al Tg8 il sindaco Carlo Masci. Come si vive l'attesa in questo giorno di vigilia? In piena tranquillità sappiamo di aver fatto tutto quello che potevamo fare, abbiamo illustrato il progetto nella maniera migliore anche attraverso il professor Sacco che è un'eminenza nell'ambito culturale non soltanto italiana ma internazionale. Devo dire che la Commissione ha recepito quello che abbiamo detto è il fatto che Pescara è una città contemporanea ed è una città di arte contemporanea. Abbiamo tantissimi esempi e li abbiamo tutti messi in evidenza. Adesso aspettiamo, per noi già essere arrivati fra i primi cinque in Italia, vuol dire aver fatto un buon lavoro, essere stati selezionati, giudicati bene, poi la vittoria per l'uno o per l'altra città verrà fuori da valutazioni che non saranno solo oggettive ma saranno anche molto soggettive. Quindi noi aspettiamo con tranquillità e con serenità sapendo che già essere arrivati fra i primi cinque vuol dire aver raggiunto un grande risultato. Sappiamo anche che il nostro progetto può vincere, quindi aspettiamo l'esito e penso comunque che quel progetto verrà realizzato perché è un progetto che fa crescere ulteriormente la nostra città. Con questo eventuale titolo cosa cambierà per Pescara? Intanto il titolo vuol dire essere una città certamente all'avanguardia ed avere un primato in un segmento importantissimo che è quello dell'arte contemporanea. Quindi è già tantissimo. Poi applicheremo e attueremo il progetto che è un progetto molto variegato che coinvolge non soltanto la città ma anche le realtà limitrofe, coinvolge fondazioni, associazioni, c'è un territorio molto effervescente, dinamico, un territorio che ha un humus fertile per quanto riguarda la cultura e l'arte e continueremo a fare il lavoro che abbiamo sempre fatto sapendo che con quei progetti Pescara crescerà ancora di più. E quindi in bocca al lupo? In bocca al lupo, sì, incrociamo le dita. Grazie. Grazie.